La Guardia di Finanza a Villa Santa Maria ha scoperto un distributore di carburante itinerante e privo di licenze. Le Fiamme Gialle di Lanciano hanno denunciato un cinquantenne molisano di Sant'Angelo del Pesco, sorpreso mentre stava rifornendo un'autovettura con il carburante contenuto in una cisterna montata su un autocarro leggero. La Guardia di Finanza nell'area in questione ha sequestrato quattro cisterne di stoccaggio della capacità complessiva di 70.000 litri, dotate di pistole erogatrici e contalitri digitali, insieme a 4.650 litri di petrolio, un autocarro leggero, un terminale POS per i pagamenti e una banconota da 50 euro appartenente ad un cliente. Il diesel era venduto a 1,40 euro al litro. Gli accertamenti proseguono per scoprire l'origine del combustibile venduto illecitamente.